allora diamo la parola ad Alessandro Ferretti ricercatore del Dipartimento di Fisica dell'Università di Torino eccomi qua, buongiorno a tutti ciao Irene sul Fatto Quotidiano hai avuto un sacco di scontri per la tua ricerca anche se è stata lodata da diversi fisici come mai non si ripropone quello che hai fatto in Piemonte anche a livello nazionale? bella domanda bella domanda infatti perché quello che è successo con i dati piemontesi è stato che l'eccezionalità del Piemonte non è che sia particolarmente contagiato è semplicemente che la regione ha deciso di diffondere i dati sul contagio scolastico fino alla data dei primissimi di dicembre e non ha solo diffuso i dati aggregati ma ha diffuso i dati per diverse categorie ovvero per tutte le diverse categorie di studenti e per le diverse categorie di personale scolastico dei diversi gradi di scuola allora quello che è importante capire è che già solo dei dati di questo tipo quindi anche senza andare a capire dove ci si è contagiati o come ci si è contagiati ma semplicemente andando a vedere quanti si sono contagiati nelle diverse categorie ci dà la possibilità di capire molte cose su quello che è successo nel contagio scolastico perché in effetti facendo dei confronti ad esempio tra personale di gradi diversi di scuola e studenti di gradi diversi di scuola si vedono delle notevoli differenze che possono essere poi associate alle varie misure restrittive che sono state messe in campo durante le settimane allora quello che succede quindi in verità ho fatto un'analisi estremamente semplice non è un'analisi che possono fare anche tranquillamente i miei studenti ovvero ho semplicemente disegnato la curva dei contagi che vedete sempre nel caso dei giornali o di vari blog l'ho disegnata per il personale scolastico semplicemente perché c'erano i dati e questa adesso io proverei quasi a condividere lo schermo che a me se non funziona poi ci proviamo adesso provo un attimino a condividere lo schermo a vedere se ci riesco per mostrarvi come effettivamente questa situazione si vede molto facilmente diciamo ovvero si vede come si capiscono bene gli andamenti dei dati eccomi qua allora mi metto qua sopra e così vi faccio vedere eccolo qua questo se lo vedete è il grafico che mostra i contagi della popolazione scolastica la vedete qua sotto della popolazione generale lo vedete qua in verde e invece vedete in blu i dati del personale delle scuole dell'infanzia le materne in grigio vedete il personale delle scuole medie in rosso il personale delle scuole primarie e infine in giallo il personale scolastico delle scuole superiori allora vedete che ho messo su delle linee verticali le date dei vari provvedimenti che sono stati adottati in Piemonte che come sapete è andato in zona rossa all'inizio di novembre ed è andato in didattica alle superiori a distanza al 50% appunto proprio anche anche sulla settimana precedente allora cosa vediamo? vediamo che fino al 12-18 ottobre ovvero circa un fino a un mese dopo la partenza delle scuole i contagi sono rimasti sostanzialmente simili per tutte quante le categorie ovvero sia la popolazione generale che la popolazione invece scolastica del personale scolastico ma vedete che quando il contagio ha cominciato a aumentare si sono differenziati notevolmente lo vedete qua ad esempio che già nell'ultima settimana di ottobre la differenza tra i contagi della popolazione generale in verde e quelli ad esempio delle scuole materne sono già quasi di un fattore 3 sono quasi il triplo i contagi poi cosa vediamo di interessante? guardate che interessante è vedere la curva del personale delle scuole superiori vedete che mentre quello delle scuole medie dell'infanzia e primarie continua a salire anche dopo l'inserimento della didattica a distanza alle superiori quello delle superiori invece scende mentre prima era sopra la popolazione passa sotto la popolazione queste correlazioni sono estremamente parlanti perché l'unico motivo per cui scendono le scuole superiori ma continuano a salire gli altri ordini di grado proprio in corrispondenza della data alle superiori l'unico motivo plausibile appunto che mettere le scuole superiori in didattica a distanza ha avuto un effetto benefico sui contagi altrimenti non si capirebbe come mai questa diminuzione avviene solo per le persone delle superiori proprio in corrispondenza della data inoltre cosa vediamo ancora vediamo altre cose piuttosto allarmanti ovvero quando è arrivata la zona rossa noi notiamo che finalmente assistiamo a un calo delle scuole medie e delle scuole primarie come mai? in quanto nelle scuole medie e nelle scuole primarie si prendono precauzioni aggiuntive si chiudono la seconda e la terza media passano a distanza e nella primaria vengono rese obbligatorie le mascherine questo provoca vedete un calo abbastanza evidente quello che invece rimane purtroppo drammatica è la situazione delle scuole materne come vedete invece le scuole materne in cui purtroppo non viene presa alcuna precauzione sufficiente rimangono mentre vedete qua erano abbastanza simili prima della fine di ottobre vedete che poi si differenzia con forza ovvero vediamo come l'assenza di precauzioni faccia sì che purtroppo contagio rimanga molto ampio e se guardiamo il grafico sotto in questo grafico vediamo la stessa cosa di prima semplicemente però vediamo solo i differenziali ovvero vedete qua sul 100% questa linea verde è la popolazione generale e vedete come appunto la scuola materna arrivi fino al 400% ovvero è 4 volte tanto il contagio alla fine del periodo in esame rispetto alla popolazione generale tra il personale delle scuole materne e questo purtroppo ovviamente è coerente con il fatto che in questi ordini di scuola i bambini non hanno la mascherina e inoltre il personale come chiunque abbia insegnato la scuola materna sa è obbligato a prendersi cura fisicamente dei ragazzini e quindi deve stargli vicino e deve quindi essere esposto molto più facilmente al contagio mentre vedete qua in giallo è interessante come il personale delle scuole superiori risultasse comunque più rischioso ma solo fino appunto l'introduzione della didattica a distanza tenete conto che in Piemonte comunque gli istituti scolastici superiori non erano partiti esattamente come l'anno precedente perché già in qualche scuole c'erano delle didattiche a distanza parziali per cercare di minimizzare il contagio quindi quello che ci mostra adesso posso interrompere la condivisione ecco, quello che ci mostra tutto questo discorso è appunto il fatto che la didattica a distanza è associata a un minor rischio di contagio e dove non ci sono precauzioni purtroppo il personale si contagia molto fortemente un'altra cosa interessante è questa annosa questione del contagio dove avviene? Avviene nei trasporti o avviene nella scuola? Beh, secondo me una cosa abbastanza indicativa per capire cosa succede nelle scuole è proprio la situazione la differenza che c'è tra gli insegnanti delle scuole superiori e gli insegnanti della scuola materna e primaria perché? Perché ovviamente io mi immagino che come categoria gli insegnanti delle scuole superiori siano demograficamente e socio-economicamente molto simili agli insegnanti delle scuole materne quindi hanno più o meno le stesse età e prendono più o meno gli stessi mezzi di trasporto alla stessa maniera eppure si vede che ancora prima dell'introduzione della didattica a distanza che quindi ovviamente fa da cambiamento si vede che il personale della scuola dell'infanzia si contagia quasi tre volte di più del personale della scuola superiore nonostante il fatto che i bambini che vanno alla scuola di infanzia sicuramente non prendono il pullman così come quelli delle primarie allora è praticamente impossibile trovare un modo di spiegare questo enorme numero di contagi nelle primarie e nelle materne che non sia quello di considerare che il contagio avviene all'interno della scuola perché altrimenti non si può spiegare una differenza di un fattore 3 con differenza nei trasporti quando addirittura appunto i ragazzi i bambini manco li prendono questi trasporti e questo fa capire che perlomeno nei gradi inferiori di scuola il rischio è assolutamente corposo tra l'altro aggiungo un elemento proprio oggi è uscito un articolo sull'ANSET in cui si fa uno studio retrospettivo dei contagi che sono avvenuti a Wuhan durante il confinamento ovvero i contagi che sono avvenuti all'interno delle famiglie perché ovviamente si è fatto il confinamento ma le famiglie sono rimaste confinate insieme questo importante studio che prende in considerazione oltre 25.000 casi ha dimostrato che la infettività dei bambini piccoli e degli adolescenti è assolutamente non trascurabile anzi che tipicamente nelle famiglie che chi infetta il prossimo è principalmente il giovane e non l'anziano ovvero si sono accorti di una differenza significativa statistica tra i casi in cui a portare il virus in casa e a diffondere lo stato l'anziano l'ultra sessantenne e invece il caso in cui a farlo si è stato il bambino piccolo questo che cosa vuol dire? vuol dire che molta della letteratura che si è letta e che viene anche spesso travisata da scienziati che hanno diciamo un'agenda politica ben chiara si basava su una difficoltà che è quella che ha già citato Davide Dosi ovvero che più si è giovani e più è difficile vedere i sintomi del virus ovvero i bambini molto piccoli spesso sono ammalati ma non manifestano sintomi questo cosa significa? che è difficile individuarli ma che contagiano ugualmente come dimostra anche questo ulteriore studio e che quindi è molto facile illudersi che i bambini non contagino semplicemente perché non ci siamo accorti che erano positivi d'altra parte anche il dato molto importante dell'ISS del 2% di contagi scolastici andrebbe accoppiato al fatto che l'80% dei contagi dei focolai individuati sono in casa il che vuol dire che effettivamente è molto difficile individuare il focolaio ultimissima cosa che vi dico che è una cosa che secondo me è la cosa più importante di tutti è la carenza di dati ovvero il report degli SS ha fatto delle affermazioni in verità alla leggerle molto più circostanziate di quanto sono state poi sfruttate sulla stampa affermando che le scuole appaiono diciamo non più insicure di tanti altri posti e allora io mi sono incuriosito perché ovviamente come avete mostrato prima io ho dei dati piemontesi che dicono esattamente il contrario ovvero che per il personale cioè molto pericoloso allora ho detto beh andiamo un attimo a vedere un pochino quali sono i dati sul personale scolastico che ha analizzato l'ISS adesso ve li rifaccio vedere perché effettivamente è abbastanza importante rendersi conto della situazione che abbiamo di fronte ed è questo dato adesso ve lo mostro subito abbiate paziente ma eccomi qua allora il dato che vediamo non so se vedete questi grafici questo è il rapporto degli SS ci sono dei grafici in verde che rappresentano come leggete qua sotto numero dei casi tra il personale scolastico per regione e trend regionale beh allora i dati ci sono mi sono detto andiamoli a vedere sono andati a vederli e guardate un po' cosa scopro vedete questo riquadro qui è la Valle d'Aosta ve lo ingrandisco ancora un pochino in Valle d'Aosta risultano contagiati vedete nel tempo una media di 5-10 persone appartenenti al personale scolastico la Valle d'Aosta 125 mila abitanti adesso andiamo a vedere a fianco proprio a fianco c'è il Veneto il Veneto ha più di 4 milioni di abitanti e come vedete qua il numero di personale contagiato è meno della metà del personale della Valle d'Aosta nonostante una popolazione 30 volte superiore ma dite che sia un caso isolato beh andiamo a vedere la Lombardia ecco qua il dato della Lombardia lo vedete qui dati di personale scolastico che si contagiano 2-4 persone al giorno cioè meno della Valle d'Aosta il Molise addirittura non è presente mentre invece vedete qua il Piemonte si vedono dei dati estremamente più importanti si arriva fino a 150 contagi nel picco al giorno nel Piemonte cosa significa tutto questo significa che l'ISS non ha raccolto i dati non ha i dati del personale scolastico quindi quando afferma che le scuole sono relativamente sicure lo fa alla cieca non lo sa perché se non si fa un'analisi precisa di cosa sta succedendo al personale scolastico con dei dati semplici da reperire perché la regione Piemonte non è che ha fatto qualcosa di eroico ha semplicemente segnato la professione vicino ai positivi ecco non è possibile fare l'affermazione che l'ISS garantisce che le scuole sono sicure quello che garantisce l'ISS è che in verità l'apertura viene fatta al buio senza i dati sul personale e questa cosa qua è estremamente grave perché in mancanza di dati tutto vale se nessuno è in grado di capire la situazione del contagio ovviamente vale il principio per cui si fa quello che più conviene che più viene meglio e quindi si aprono le scuole perché basta chiudere gli occhi di fronte alla realtà per sentirsi sicuri e questo penso che per riprendere quello che diceva Cristiano prima ecco la mancanza di dati sulla salute del personale degli studenti è veramente qualcosa di tremendamente antidemocratico grazie mille per l'attenzione grazie mille grazie mille